Musica Amici di Rete55, eccoci ritrovati a bianco-blu sempre sugli schermi di Rete55, canale 88 o sui nostri canali social che sono stati un po' bombardati in questa settimana Vabbè, noi ridiamo perché cosa dobbiamo fare ragazzi? Cioè io vi voglio tirare su un po' di morale perché tra un po' i nostri tifosi oggi poi ho visto anche Albizzati che mi era triste come non mai ho visto altri tifosi e ne ho parlato un po' male di domenica Andrea Macchi Buonasera che al commento domenica io ho dovuto scappare perché purtroppo i miei Andrea Scaldi Buonasera E Alessandro Bianchi ti ho visto veramente raso terra Ero un po' raso terra perché abbiamo voluto regalare questa partita alla Gianna che ha fatto quello che doveva fare la squadra ne ho promossa un'ora ha sprombattuto, ha dato in vantaggio poi la propria è stata brava non è stato il primo tempo orrendo a rimetterla sui propri binari lì era il momento di picchiare dentro secondo se non il terzo invece sei riusciti a prendere l'1-2 da una squadra che ormai il meglio l'aveva probabilmente già dato e sono segnali che non belli una sconfitta che mi ha dato fastidio per come è maturata insomma non siamo partiti bene Secondo me due considerazioni la prima che comunque è ancora la prima giornata quindi il campionato è ancora proprio in fase iniziale però l'altro aspetto che secondo me anche dal punto di vista tattico per le prossime partite si è discusso molto si potrebbe trovare qualche soluzione Lodo Scalvi Mister Riccardo attenzione perché Lodo Scalvi è tremendo No diciamo che tra di noi ci siamo confrontati però sicuramente ci sarà qualche motivo o man mano evolverà lo schiaramento tattico per poter far giocare sia Stanzani sia Pitu sia con la prima punta che può essere Castelli o Parker quindi un'idea potrebbe essere quella di fare il 3-4-2-1 oppure un 3-5-2 con Stanzani come interno di centrocampo Tu pensa che il tuo Lodo è quello io voglio le due punte voglio i due là sia Parker che Castelli poi non lo so come deve mettere il mento perché io sono un tifoso non sono il tecnico che come Lodo Scalvi però il Lodo Scalvi mi trova d'accordo effettivamente ci sta perché però sai domenica a un certo punto personalmente pensavo che le due punte di peso Parker e Castelli dopo che hai preso soprattutto il secondo gol potessero giocare insieme Ale ti vedo pensieroso dispiaciuto quantomeno dispiaciuto è stato un peccato perché come ha detto Andrea ma tra l'altro l'analisi è stata anche fatta lucidamente da Mr. Colombo il primo tempo è stato insufficiente comunque non ha reso felice nel nostro tecnico né noi nella seconda frazione però stava mettendo le corde la squadra avversaria e purtroppo è arrivato al secondo gol è stata una voce ghiacciata io non è che voglio fare sai da tifoso vuoi sempre vincere e ti abbatti quando giochi perdi giochi male però obiettivamente loro hanno fatto quello che dovevano fare e hanno fatto quanti ti rimporta? due questa è la realtà non è che noi ne abbiamo fatti molti di più vogliamo salvare Rovida ah beh sul gol perché c'erano tante di quelle cose tra l'altro io li dico colleghi di Scalvi perché è lui che ha i contatti più che colleghi sono amici fraterni per lui che hanno detto abbiamo rivisto le immagini e la colpa secondo loro era del portiere no per me no ma in presa diretta perché io sono convinto che è passata in mezzo alla barriera sì sì assolutamente perché non può aver girato la barriera io sono convinto che è passata in mezzo sono convinto anche dalle immagini quindi non me l'ho togliata nessuno lui ha cercato di arrivarci ma non la prendi più non la prendi più ci ha cercato di dare ecco l'unica cosa che noi negli anni senza nulla togli a Rovida perché ce lo dimostrerà sono sicuro ma senza nulla togli negli altri anni eravamo un po' abituati bene con i portieri quindi sai magari vederlo un po' insicuro su qualche rinvio ti lascia un po' così però ragazzi diamogli tempo innanzitutto a 20 anni insomma è vero che a 20 anni devi essere pronto però un portiere lo sappiamo che a 20 anni sai io sono sempre stato critico con Del Favero perché mi aspettavo tantissimo poi ha avuto anche lui le sue attenuanti Rovida in questo momento è uno o due gradini sotto ma per ah vedremo certo logica di cose diciamo diamogli anche un attimino di tempo perché io me ne ricordo quando è arrivato Greco da noi all'inizio ragazzi non scherziamo però poi si è dimostrato un bel portiere voi lui non era ancora nato voi vi ricordate Luca Bucci ah no no voi non te lo ricordi io me lo ricordo noi tifosi vecchi l'abbiamo fatto scappare dopo un derby con Legnano di Coppa Italia capito era arrivato lui Gian dei Biaggi dal Parma e che carriera ha fatto dopo Bucci senza andare lontano c'era qualcuno che durante l'anno di Caprile diceva che la propatera a gennaio avrebbe dovuto comprare un portiere quindi cioè io adesso non diamo ci stiamo dilungando perché è bello queste cose però è la prima partita insomma noi non è che abbiamo fatto molto di più però io di tiro in porta perlomeno ne ho contati quattro beh ma diciamo al di là ripeto non abbiamo giocato bene però se andiamo a analizzare quello che è il calcio la sua bellezza al calcio è i tiri in porta oltre che i gol poi è facile da dire se Citterio poi con i secoli ma non si va da nessuna parte fa il 2-1 la partita è finita poi tra l'altro si è discusso anche tanto della nostra mediana che in tanti hanno visto un po' troppo compassata poi volevo fare una considerazione io sarò di parte perché è il mio giocatore preferito ma quando si critica Nicco cioè bisognerebbe andarci un attimino più cauti perché c'è un conto è un giocatore ci sono le categorie come ha detto Andrea come dice Allegri un conto sono giocatori come Nicco Fietta in passato viene passato recente Bruccini compagnia un conto sono i giocatori che abbiamo avuto nel 2015 2016 diciamo che un attimino più di calma non guasterebbe ormai lo soprannomino Nico 5,5 perché parte da quel vuoto allora quello che volevo dire io perché c'è stato qualcuno che da Marano si aspettava molto di più io faccio una mia considerazione a parte che in tribuna io quando lo stava sostituendo che Andrea è ritornato nella sua postazione perché prima aveva ceduto per dirla già non ha voluto dire la formazione me l'ha fatta dire a me che era emozionato che era emozionato la prima partita no vabbè scherzo vabbè è piaciuto ridire le formazioni sono ritratto indietro di un po' di anni e stavo dicendo quando è uscito Marano lui si è girato verso il mister facendo un segno e subito ha chiamato il cambio probabilmente non era al 100% avrà avuto qualche problemino e si è fermato subito non lo so a me è dato l'idea che lui non ha fatto grandi cose per chi è Marano però ha dato equilibrio però dava un equilibrio insomma anche gli altri sanno chi è Marano ecco voglio dire come sanno chi è Nico come ecco c'è da dire che ritornando al discorso del Lodo Scalvi è mancata qualità davanti ha fatto una fatica tremenda a proporre con un Drek anche molto sottotono esatto e poi dietro diciamo ci sono state due chiamiamo le sbavature di Lombardoni in entrambi i gol penso che Lombardoni fa due sbavature all'anno e allora ce lo siamo giocati e quindi diciamo ci sono state una serie di situazioni che hanno portato a questo devo dire una cosa la maglia che è stata criticatissima invece il completo in campo adesso qua ti voglio molto bella molto elegante è molto elegante bene nota positiva è entrato molto bene il Renault sulla destra ha spinto nell'ultima mezz'ora una garanzia una garanzia 9 Renault una garanzia no ha spinto perché lo dicevamo quando eravamo lì l'esterno di centrocampo chiamalo il quinto il terzo chiamalo come volete voi deve essere quello che non è che deve solo difendere deve spingere 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 Drecca l'anno scorso aveva fatto di quelle cose incredibili il girone d'andata ecco noi ci aspettavamo che anche quest'anno Drecca facesse quello primo tempo non l'ha fatto il secondo insomma ha cercato qualcosina non è arrivata la sufficienza dai siamo onesti però ha cercato quando è entrato Renault a differenza di Piran o Piran che io non ho ancora capito come lo diceva ma io lo dico alla Veneta Piran ma noi diciamo che il nostro gioiellino del settore chiederemo tutto sommato non aveva fatto male il primo tempo aveva cercato qualche incursione però con la forza che a lui di devi andare giù e saltare l'uomo cercare di creare superiorità devi spingere non devi preoccuparti solo di difendere questa è la mia idea poi sicuramente era anche la prima partita quindi secondo me devono trarsi quando è entrato Renault invece Renault giocava da metà campo in su ha spinto molto ecco forse non lo so magari era lo stimolo in più per voler dimostrare qualcosa però insomma e poi il lago della bilancia per tanti è stata la non titolarità di Pitù in tanti l'hanno l'hanno acclamato quando è entrato lo volevano dal primo minuto anche lui voleva strafare però ha fatto quell'azione che ne ha fatto un cinema lì che ne ha fatto tunnel micatun eccetera Pitù io penso che non abbia bisogno di essere né difeso né non bisogna dargli grandi pressioni secondo me chiaro che il sottoscritto l'avrebbe anch'io voluto vedere dall'inizio come tutti perché ti fa divertire sono a calcio anche fatto di divertimento oltre che anche di tre punti però io dico sempre una cosa la qualità va fatta giocare Stanzani Pitù sono giocatori che devono giocare ma deluso però nella prima partita Mallamo mi ha evocato un giocatore del passato che secondo me è stato uno dei peggiori con la maglia della propatria cioè troppo compassato troppo semplice nella giocata il primo tempo che tornava sempre indietro passaggino la cosa facile secondo tempo ha cercato qualche inserimento in più però devi prendere in mano l'iniziativa Bertoni di lì è un'altra però voglio dire se tu giochi in quella posizione devi tirar fuori anche perché devi dare quella spinta in più domenica andiamo a Novara alle 18.30 di fronte avrà un giocatore come Ragneri che se Mallamo gioca così se lo mette in tasca e ce lo restituisce a fine partita quindi lui deve dimostrare quello che effettivamente vale perché è un giocatore che vale no no assolutamente non lo discutiamo però diamo certo uno dice parti perdi in casa però Mauro tuttavia le tue spalle vedevo solo risultati a sorpresa solo quelli una partita leggiamola sì adesso poi tra l'altro esatto quelli qua sono stati non c'è una partita di cui mi aspettavo sinceramente 4-0 l'Iago Arzignano quando l'Arzignano l'anno scorso ha fatto i play-off la squadra quella si sono rinforzati poi l'Atalanta è partita comunque abbastanza male il Novara comunque ad Alessandria si è trovato davanti un'Alessandria composta lo diciamo da ragazzi più che altro però che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo Renata ha vinto a Fiorenzuola il Vicenza che mi aspettavo vincesse con l'Albino non solo ha pareggiato ma ha rischiato anche di perdere perché il giorno su punizione ha preso una traversa incredibile poi il Mantua-Padova il Birmec è la giornata 1-1 e la caduta dell'Apero Sesto ha fatto no non mi sorprende però si è cambiato tanto forse casomai il Lumezzano 4-1 di Lumezzano e comunque la Triestina scusa in casa ragazzi cioè noi siamo preoccupati però c'è chi magari non c'è un risultato però dobbiamo come è il Novara insomma allora Novara che si è un po' ha meno nomi rispetto all'anno scorso però ha comunque dei giocatori di qualità che sono rimasti Novara che ha un punto in classifica l'allenatore che conoscono molto bene Alessandro e Andrea è Buzzegoli ex capitano del Novara che è anche mi hanno fatto anche una foto tanto che lo abbraccio quindi è stata nascosta che è stato ex capitano del Novara anche capitano del Varese e adesso è diventato allenatore della prima squadra sai quanto avanti veniva anche il negozio una persona squisita beh ma lui è bravissimo può giocare no ma come si dice non è un mistero che io e Andrea abbiamo arbitrato il Novara se non sbaglio nella penultima amichevole estiva che hanno fatto e la partita è stata contro il Gozzano molto bella ti dico ma non lo dico per piageria raramente mi è capitato di avere a che fare con un tecnico come Buzzegoli intendo come da direttore di gara è una persona incredibile scusati l'ultimo aneddoto pare che la propatria di tesoro all'epoca l'abbia rifiutato e poi l'ha preso il Varese proprio per far l'annata in cui è stato protagonista con due gol che sono Balser Seribi in porta al Novara confermato Desjardins che si è anche un classe 2000 quindi giovane comunque già la terza stagione a Novara portiere di origine canadese che è cresciuto nelle giovanili dello Spezia alla Villeneuve nome francese canadese in difesa si è rinforzata prendendo Bertoncini che è un giocatore che arriva da Como dove non stava giocando molto in serie B però ha diverse esperienze in serie C tra cui ce lo ricordiamo nel Piacenza a centrocampo abbiamo punto di riferimento Ranieri giocatore di qualità che era già a Novara l'anno scorso ma che ha fatto diverse stagioni a Renate giocatore molto interessante e che il Novara ha confermato a fianco a lui quest'anno dovrebbe riproporre il titolare Di Munno da non confondere con Di Munno dell'Ecco questo non mi pare zoppo questo corre Di Munno che è un giocatore giovane che ha giocato titolare in serie di l'anno in cui il Novara ha vinto il campionato l'anno scorso è stato un po' tra la panchina e la squadra titolare quest'anno invece parte titolare l'attacco è stato cambiato completamente non c'è più González che dopo tanti anni ha lasciato il Novara è stato acquistato Rossetti che è un attaccante che non segna molto e fa tanto lavoro per la squadra nell'ultimo infatti ha giocato diverse stagioni a Renate nell'ultimo semestre ha giocato a Taranto e poi accanto a lui Scappini Scappini attaccante di esperienza giocatore che l'anno scorso era Torres ha fatto otto gol però ha girato diverse piazze tra cui anche Cremona Cittadella giocatore quindi attacco completamente rinnovato va bene vedremo diciamo che il loro punto di forza secondo me è il centrocampo del Novara beh sulla carta io sono convinto che anche quello della prova è forte quindi anzi è un lusso per la C va bene allora abbiamo diverse iniziative a Busto sì prima il prossimo turno il prossimo turno cioè quello odierno che appunto avevamo la grafica la pro giocherà ovviamente alle 18.30 siamo contenti sinceramente della risposta che c'è stata da parte del pubblico ovviamente saremo in tantissimi è una partita sentita ma già da un po' che comunque il pullman era pieno ci saranno tanti ultras ed ecco comunque la giornata la giornata di Erna sono tante le sfide interessanti spicca oltre appunto il derby del Ticino anche Atalanta B tra virgolette contro Triestina più ovviamente tutte le altre tra l'altro ha tra virgolette destato scalpore l'esordio di Sky che comunque fa sempre una gran figura io non amo tanto la PTV la partita vista a distanza come la partita vista allo stadio per vedere tutto acquisire credibilità però comunque quando c'è Sky si vede in tutti i sensi molto bene tante iniziative a busto già da stasera e poi si continua domani in piazza San Giovanni c'è una rassegna diciamo sui libri ospiti tra gli altri Gianluca Pagliuca che non necessita di presentazioni Filippo Grassia insomma un'ecker mess importante è una vetrina c'è anche il mio amico Gene eh sì c'è Gene Gnocchi insomma tanti nomi importanti mentre dal ecco sportivamente mentre dal 16 di settembre presso i locali della biblioteca ci sarà una mostra fotografica completamente dedicata alla storia della Propatria sono immagini storiche d'archivio si concluderà poi il primo di ottobre quindi ci sono un paio di settimane per visitarla non perdetevela è una delle iniziative promosse in collaborazione con il museo ecco una cosa che volevo dire proprio ieri ho visto quella bella immagine di un giornale in bianco e nero dove portava l'ho visto grazie al Propatria Museum Propatria Barcellona per la famosa storia di Cubala che per risarcire visto che non ce l'han pagato per risarcire un po' c'è stata l'amichevole insomma bello vedere questa storia bisognerebbe 156 bisognerebbe appunto promuovere queste informazioni perché tanti considerano la Propatria la stregua di una Gianna Eerminio c'è tanta differenza cioè la storia non si cancella e bisogna rimarcarla questa differenza tra l'altro Mauro perché comunque il numero degli spettatori un pochino ha pianto secondo me domenica però vorrei sottolineare una cosa la curva era chiusa per decisione del giudice sportivo non c'è stata nessuna decisione non c'erano contestazioni assolutamente nel modo più assoluto e ho visto passare dietro le tue spalle il nuovo gadget del tigrotto che è il gadget che il tigrotto serve a chi si tessera appunto con il club di cui presidente Simone Lamperti sono ben felice di presentarlo perché io ormai vengo sempre ricordato con uno zainetto in tutte le mie trasferte che è sempre lo stesso da anni e perché appunto il tigrotto insieme al proprietario club ha organizzato una grande trasferta innovare ben riuscita e organizziamo anche quella di Zanica attenzione perché mancano solo dieci giorni si gioca in infra settimanale mercoledì il 20 alle 18.30 quindi chi vuole stiamo già raccogliendo le adizioni ne abbiamo già raccolte più di una e siamo ben contenti di accogliervi con noi ecco intanto per citare e chiudo il argomento Giana da rimarcare questi cucù chiamiamoli così che durante il minuto di raccoglimento hanno fatto un cinema che potevano risparmiarselo sì anche diciamo anche i nostri anche i nostri non si sono tirati indietro perché è una cosa veramente vergognosa c'è anche chi viene a insultare sui profili personali di facebook eccetera quindi purtroppo non ci si passa sopra sì no lo so però ha dato un po' fastidio perché insomma non si scherza su certe cose provabile formazione tra l'altro il minuto di silenzio era per un grave lutto chiaro ne è stato comunicato uno altrettanto importante subito dopo della Pro gli mandiamo un caro abbraccio è stato anche il nostro ospite ad Angelino sì gli ho detto che si prenderà una bella soddisfazione da dedicare a una stella in più che ha magari proprio domenica con un assisto con un gol io sono ancora in clima estivo tu sei già bello come sempre io vicino a te faccio quella figura proprio di ma mi no ma perché perché io sono ancora sono ancora come domenica però non vado a fare a caldo sono rimasto come domenica io perché Mauro provabile formazione portiere Rovida difesa dove dovrebbe giocare nuovo acquisto Minelli quindi da destra a sinistra Minelli Lombardoni e Moretti come Saporetti ancora fuori perché Saporetti ancora fuori sulla destra secondo me gioca titolare a Renault visto come è entrato molto bene a centrocampo secondo me se non in trasferta partiamo comunque con un 3-5-2 con il probabile recupero di Ferri e quindi Nico Mallamo e poi Offerrio Marano e sulla sinistra Andreca davanti magari fa partire Pitù con Castelli va bene vedremo io devo dire che non mi è dispiaciuto nel suo anche Vaghi ha dato una bella cioè ha dato grinta è un ottimo elemento più che difensore non vedo più come quinto esterno però è il suo ruolo quello noi ci divertiamo siamo tifosi non dimentichiamolo mai a volte sì a volte no va bene tifosi a volte tranquilli a volte un po' più agitati va bene amici grazie per la visione sui nostri canali social tutte le varie informazioni hai ripreso qualche tua pillola non male e seguiteci perché c'è sempre qualcosa da parlare di pro grazie Andrea Macchi grazie a voi grazie a tutti grazie a voi tutti voi amici della Rete 55 buona serata